Perico siamo qua, oggi si parla di sport ma si parla anche di legalità, due valori che insomma sono uniti nell'ambito sportivo ed extrasportivo. Beh assolutamente sì, infatti anche nello sport come è la vita di tutti i giorni bisogna seguire le regole, per questo oggi siamo qui a Bussolengo al teatro parrucchiale appunto per discutere di questi fatti e adesso sono veramente contento di stare qui e poter parlare ai ragazzi di questi avvenimenti. Anche perché ricorre un anniversario molto importante che ha segnato davvero in modo fondamentale la storia italiana, la strage di Capaci, è qualcosa che insomma è accaduta nella tua terra e qualcosa di cui è importante continuare a parlare. Ma sì, io ero molto piccolo però ricordo anche durante le pause pranzo a casa di questo episodio. È importante che i ragazzi sappiano che quello che è stato il passato appunto per evitare che le stesse cose possano succedere anche in futuro.